Ciao, mi chiamo Enrico e sono un networker, studio questa industria tutta la vita. Ma lasciamo perdere quello che faccio io, pensiamo un attimo a te. Allora, la domanda era semplice, sei un networker o vorresti diventarlo? Perché questa domanda? Perché ti stai chiedendo questa domanda? Forse ti sarai reso conto che il network marketing è sicuramente un mezzo molto importante che ha arricchito molte persone negli ultimi 60-70 anni, anche se devo dire la verità che il marketing è nato probabilmente con la nascita del mondo e le attività normali stanno avendo grossi problemi, se non utilizzando il marketing per esse. Quindi con delle applicazioni o con dei sistemi sul web. Comunque il marketing deve essere affiancato a qualsiasi tipo di azienda. Il marketing ti dà la possibilità di guadagnare lavorando in maniera diversa da quello che si è abituati. Ma il marketing ha anche dei grossi problemi. Ha dei problemi, se tu sei già un networker li starai sperimentando. I problemi sono che ti dicono, le tue appline, ti dicono che l'azienda è seria, c'è da 60 anni, sta ancora fatturando 9, 10, 13, 15 miliardi, tutto quello che è. E va bene, è vero, è verissimo, il network è sano, la rete è sana. Se tu hai un'azienda seria, datata e sana, il fatturato c'è, c'è sempre, è vero. Ma quanto ce n'è per te che sei lì magari da un anno o hai appena iniziato o vorresti iniziare? Il fatturato è già creato, è creato nel sistema, quindi i primi che sono sopra hanno la sua clientela, il suo giro d'affari, i suoi distributori, hanno un grosso guadagno. Man mano che vai in giù, si allarga la rete, più che in giù, diciamo, vai a vedere la rete in tutti i suoi capi e vedi che in realtà non tutti stanno guadagnando così tanto. Quindi la conclusione qual è? Che devi essere un gran professionista se vuoi entrare in un network, specialmente se hai già magari da anni che è sul mercato. D'altra parte potresti entrare in un network giovane, moderno, semplice e avere il rischio che magari dopo sei mesi, un anno, chiuda. Perché anche queste problematiche ci sono. Il network è sano e funziona quando ho passato i tre anni. Qualsiasi azienda che c'è sul mercato, anche una pizzeria, se non passi tre anni, cioè se non è seria non passi tre anni, ecco da quello che volevo dire. Quindi è una cosa normalissima, non è questione di network, non network. È questione che se non lavori bene, se la tua azienda non è sana, non è seria, che sia un network, che sia una pizzeria, che sia un ristorante, che sia un carrozziere, non dura. Quindi bisogna stare attenti anche a quel lato lì. Quindi bisogna capire, conoscere il network, sapere chi c'è dietro, come funziona, quali sono i suoi compensi, bisogna sapere un po' di cose. E quelle cose lì le sa chi c'è in mezzo da tanti anni. Tu che stai per iniziare non lo puoi sapere, tu che sei lì da un anno sai qualcosa. Però devi comunque affidarti a qualcuno e fidarti di qualcuno che ti dice sì, è serio, è sano. E quindi questo è un problema. Questi sono un paio di problemini abbastanza grossi, magari per chi sta pensando il network funziona, funziona a tante persone, potrà funzionare a me. Nel tuo caso hai questi dubbi, hai queste paure, e sono legittime. Non te le nascondo, tutti le hanno all'inizio, tanti rimangono anche dopo, tanti per non avere le paure, non avere i dubbi, non lo prendono neanche in considerazione, non lo capiscono, non lo conoscono. E va bene. Ma io sono qua oggi a dirti che c'è una possibilità, c'è una possibilità per te, per te che sei già nel network e non hai i risultati che speravi o che credevi o che vorresti, e c'è una possibilità per te che ci stai affacciando a questa realtà e vorresti conoscere e capirla meglio. Quindi c'è la possibilità di entrare in un sistema gratuitamente dove puoi studiare e capire tutto quello che c'è da fare, come funziona, eccetera. E solo a quel punto lì decidere poi se darti da fare e prendere questa strada, perché ricordati che la strada del network marketing è una strada, è un lavoro, è un lavoro come quello che stai facendo in questo momento, che ti dà da vivere e ti fa guadagnare perché tutti i giorni vai a lavorare. Quindi il network marketing è un sistema diverso di lavoro, non è che non lavori, e se qualcuno ti dice fai network e diventi milionario, insomma, non è detto che sia così. Sarà così se tu sei disposto a darti da fare e fare quello che c'è da fare. Ogni network ha le sue cose da fare. Il 90% dei network devi vendere un prodotto fisico e fare rete, in altri network non c'è bisogno di fare questo, nel nostro caso non c'è da fare dimostrazioni tipiche, non c'è da vendere prodotti, detersivi, caffè, funghi o qualsiasi cosa. È un network innovativo, è un'azienda, come ti ho scritto nella pagina, è un'azienda innovativa che sta rivoluzionando il sistema del network marketing, sta rivoluzionando il sistema finanziario del mondo, perché siamo presenti in più di 200 paesi al mondo, e quindi stiamo dando educazione finanziaria a più di 200 paesi al mondo. Quindi se vuoi anche tu avere la tua formazione finanziaria, e capire come muoverti, e sfruttare anche il network che ci sta dietro, non ti resta che lasciare la tua mail qui in fondo, ti arriverà un link e una procedura dove tu potrai partecipare a un nostro webinar che facciamo ogni giovedì sera, dove potrai capire il progetto, capire dove vengono i soldi, come si fanno i soldi, come educarti, tutte quelle cose che abbiamo da metterti a disposizione per creare la tua base finanziaria. Io non voglio portarti via altro tempo, ti auguro una buona giornata, ti auguro di mettere la mail in fondo, sii curioso, sii curioso, l'unico consiglio che posso darti, sii curioso, capisci, fai un passetto avanti, lascia la tua mail, entra, vieni a vedere il webinar, capisci se può fare per te, poi a quel punto lì, se farà per te, potrai iscriverti gratuitamente, ripeto, gratuitamente, non hai vincoli, non hai riordini, non hai problemi di nessun tipo, la tua iscrizione servirà fine a se stessa, a capire come funziona il sistema e se fa per te, punto. Poi da lì in avanti parleremo di come muoverci per cominciare a mettere soldi in banca, già dalle prime settimane, molto fattibile, semplice e duplicabile, alla portata di tutte le persone e per la prima volta nella storia del network marketing, il 100% delle persone che fanno parte di questa organizzazione, poco o tanto guadagnano e capirai perché, quando vedrai il webinar, ti si illuminerà la strada. Ciao da Enrico e da Capitale Digitale